4 ottobre, festa di San Francesco, patrono d'Italia. Alcuni hanno voluto ricordarlo in un luogo dove lui passò, dopo aver ricevuto le stimmate il 30 settembre del 1224 e da dove salutò per l'ultima volta il Monte Sacro della Verna. Addio Monte Alvernia, Dio Padre, Dio Figliolo, Dio Spirito Santo ti benedica. Restati in pace, che più non ci vedremo, disse. Questo luogo è l'eremo della Casella, sull'Alpe di Catenaia, a 1262 metri, da dove oggi passa anche uno dei cammini di San Francesco. Siccome lui è passato di qui diverse volte, allora ci hanno pensato gli abitanti della valle di Sovaggio a costruire questo eremo e a prendersene cura. E praticamente lo curano anche oggi. Quindi noi veniamo qui per l'ascensione, per benedire tutta la valle di Caprese, e poi veniamo per San Pietro e Paolo. la domenica seguente via San Pietro non si festeggia più. E poi veniamo proprio qui, il giorno del 4 ottobre, per onorare San Francesco, ringraziarlo e pregare per lui e ammirarlo. Oggi è il giorno? Della nascita al cielo. Io da tre anni, 83, quindi ci sono sempre venuto. Grazie a tutti.